Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua con un nuovo video dedicato alla videocamera di sorveglianza Home e Life. La videocamera mi è stata regalata attivando la fibra di infostrada qualche giorno fa, di cui vi ho fatto anche il video della configurazione del modem, e ancora non l'avevo aperto e quindi ho colto l'occasione per fare la prima configurazione, vedere il contenuto della scatola e qualche caratteristica tecnica, ed in particolar modo se è così semplice configurarla come scritto nel manuale delle istruzioni. Detto questo iniziamo a vedere il contenuto della scatola, all'interno della scatola potremo trovare il manuale delle istruzioni in italiano, potremo trovare la videocamera, cavetto per alimentarla, e potremo trovare anche delle piastrine che ci permettono di attaccare al muro la videocamera di sorveglianza. Molto comoda la piastrina perché una volta che avremo fatto i buchi al muro, e comunque potremo anche non farli perché comunque abbiamo anche del bioadesivo, e se ne avete dell'altro potrete gestire tutto col bioadesivo, noi potremo incollare la piastrina, come potete vedere c'è un magnete, sotto la videocamera di sorveglianza. Infatti faccio fatica a staccarlo, quindi non dovrete avere paura che la videocamera si stacca perché vi assicuro che è veramente forte. Andiamo a vedere qualche caratteristica tecnica della videocamera di sorveglianza, avremo una risoluzione video da 1280x720p, quindi HD, abbiamo una lente da 2,8 mm con apertura 2.5, angolo di visione di 111 gradi, modalità giorno e notte, infatti avremo anche la visione notturna, con una copertura fino a 5 metri. Abbiamo il supporto ad una memoria microSD fino a 128 giga, non è inclusa, abbiamo anche l'audio per il microfono e l'autoparlante, sia per ascoltare che per parlare, e la videocamera funziona ad una temperatura da meno 20 gradi fino a più 50 gradi. Peso 120 grammi, dimensioni, quelle che potete vedere qui, 58x128x58 mm. Detto questo andiamo a vedere il funzionamento di questa videocamera. Allora, la prima cosa che dovremo andare a fare sarà collegare qua dietro alla videocamera il cavetto dell'alimentazione. Andiamo ad attaccare il cavo alla corrente, intanto così andiamo ad accendere la videocamera. L'applicazione che potremo avere per la videocamera è sia per Android che per iOS. Io per velocizzare il passaggio la sono già andata a installare, ma voi molto semplicemente dovrete andare sul Play Store o l'App Store e cercare Home e Life. Allora, eccolo qua, abbiamo collegato la videocamera, si dovrebbe accendere il LED. Eccola, qui l'abbiamo accesa. Ecco, inoltre, viene anche segnalato che la videocamera può ruotare su se stessa di 360 gradi e di 90 gradi dal basso verso l'alto. Allora, dopo vedremo anche come fare. Una volta che avremo configurato l'applicazione, ok, andiamo a sbloccare il telefono. Allora, noi abbiamo già installato Home e Life. Ho già fatto qualche passaggio per velocizzare la configurazione. Quello che dovrete fare sarà, una volta installata l'applicazione, andarla ad aprire ed effettuare una prima registrazione inserendo semplicemente la vostra email ed una password. Io l'ho già fatto, come potete vedere, ma è questione di 10 secondi. In pratica dovrete registrarvi al servizio e una volta che vi siete registrati potremo iniziare ad utilizzare la nostra videocamera di sorveglianza. Allora, quello che dobbiamo andare a fare sarà cliccare sul pulsante più. Vi ricordo che tutti questi passaggi sono illustrati anche nel manuale delle istruzioni. Una volta che avremo cliccato sul tasto più, come ci viene segnalato, dovremo effettuare la scansione del QR code sotto la videocamera di sorveglianza. Ok, lo andiamo a scansionare. Perfetto. Ok, dai. Ok, perfetto. L'abbiamo scansionata. Allora, numero seriale, connessione alla rete. Molto probabilmente qui ci verrà chiesta la password. Allora, io la password l'ho già salvata. Infatti, clicchiamo su Avanti e qua ci chiede la nostra password. Molto semplicemente la andiamo a incollare perché l'ho già copiata. Vediamo. Hai problemi di connessione? No. Non dovremo avere riconnessione. Riprova. Ok, vediamo. Allora, questo cellulare è connesso alla rete Wi-Fi. Tac, tac, tac. Ok, riproviamo. Mettiamo la password. Password. Accord, incolliamo. Vediamo. Trasferisci le credenziali. Allora, hai problemi di connessione? Non sembra che è così facile perché non riusciamo a farlo. I'm change setting. No, è tutto corretto qua, ragazzi. Stiamo avendo il primo problema. Allora, riprova. Vuoi uscire dalla funzione aggiungi dispositivo? Aspetta. Allora, il dispositivo deve essere acceso. Ok, rete Wi-Fi è in funzione. Rete Wi-Fi, il tuo cellulare è in funzione. Resettare il dispositivo se hai già impostato in precedenza. Ah, resettare il dispositivo. Però non l'ho mai. Niente. E quindi dobbiamo resettare la cam. Allora, clicchiamo sul tasto reset. Ecco, come potete vedere, queste prove vi possono aiutare perché magari potreste avere anche voi questi problemi. Allora, qui nella videocamera abbiamo il tasto reset vicino qui al slot microSD. Allora, andiamo allora a cliccare per vedere cosa succede. La resettiamo. Vediamo se davanti succede qualcosa. Ok, qui, ecco, qui si è acceso qualcosa. Secondo me si sta riavviando. E andiamo a vedere se riusciamo a riconfigurarla dopo aver cliccato sul tasto reset. Allora, clicchiamo sul più e vediamo se andando a scansionare il QR code adesso funziona. Ok. Eccolo qua. Connessione alla rete. Rifacciamo quello che abbiamo fatto prima. Allora, mi era capitato anche su un'altra videocamera di sorveglianza che ho dovuto rifare il reset per configurare bene la videocamera. Speriamo che va bene. Niente, neanche con il reset siamo riusciti a far funzionare questa benedetta webcam. Ok ragazzi, dopo quasi dieci tentativi ho capito qual era il problema. In realtà non è che ho capito il problema ma ho aggirato l'ostacolo. Andiamo a sbloccare l'applicazione. In pratica andando qua sotto in altro abbiamo un altro metodo per collegare la videocamera di sorveglianza con il telefono. Quello che dobbiamo andare a fare è andare su impostazioni e funzioni, wifi configuration tool e quello che dovrete andare a fare è aggiungere la password in questo punto. Andando a fare così sono riuscito a far riconoscere la videocamera al telefono. In pratica dovremo mettere davanti la videocamera e far scansionare al contrario la videocamera il codice QR code che vede di fronte. Ok, dice che quando vedrete la lucina blu qui davanti la videocamera ha riconosciuto il QR code e infatti è stato riconosciuto. Clicchiamo su fine e niente, torniamo indietro e andiamo ad aggiungere tramite la schermata home la nostra videocamera. Aggiungiamola e andiamo a scansionare il QR code sotto. Ok, spero che questo video sia veramente utile perché io ho fatto una fatica dalla miseria. Allora, scansioniamo il QR code sotto. Ok, dove siamo qui? Trovata, ecco, a differenza di prima dove diceva che la videocamera non era in linea, ora è in linea. Clicchiamo su aggiungi, tata, speriamo che riusciamo a configurarla. Aggiunta dal dispositivo, attendi. Oh, alleluia, finalmente ragazzi siamo riusciti a configurare il dispositivo. Facciamo vedi dispositivo e vediamo la qualità dell'immagine. Ok, finalmente una grande soddisfazione perché comunque con il metodo che è presente nel manuale delle istruzioni non sono riuscito. Eccoci qua ragazzi in linea. Come potete vedere qui abbiamo quello che riprende la videocamera. Ci sono io in questo momento. Allora, clicchiamo dentro. Eccolo qui ragazzi. Allora, come potete vedere in tempo reale stiamo vedendo cosa vede la videocamera. Ok, perfetto, ci siamo. Vi ricordo che possiamo mettere una microSD fino a 128GB. Ok, sono molto soddisfatto. Finalmente era ora che riuscivo a configurare dopo 10 tentativi questa videocamera con questo piccolo escamotage che comunque si differenzia rispetto al manuale delle istruzioni. Spero che anche voi non abbiate fatto così fatica come ho fatto io per configurare questa videocamera di sorveglianza e spero che possa essere anche di aiuto questo piccolo escamotage magari se anche voi avete avuto questo problema. Detto questo ci vediamo col prossimo video. Ciao. Guardate ragazzi che figata recupera tutti i punti con questa peculiarità. In pratica la videocamera di sorveglianza potendo avere una calamita qua sotto ci permette di attaccarla senza staff o senza niente a qualsiasi superficie con del metallo. Come potete vedere la metto qui e la videocamera sta appiccicata. Vi assicuro che la calamita sotto la videocamera è veramente potente. Come potete vedere sta fissa. E niente questa potrebbe essere un plus per chi decide di mettere questa videocamera. Come anticipato potremo regolare 360 gradi intorno e di 90 gradi in posizione verticale in modo da decidere come posizionare la videocamera. Non è motorizzata e niente spero che il video vi sia stato utile e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao. Che fatica niente niente e niente è a 5 centimetri io più di così non so che cosa fare perché ormai l'ho provata e tutta e resetta quello disattiva il wifi. Tattattac sarebbe da provare con un altro dispositivo. Vabbè probabilmente è tutto con iphone x e home life cam non sono riuscito a configurare questa videocamera di sorveglianza. Ciao. Ciao.